Ciao a tutti amici! Benvenuti nel nostro canale Mamma Vita e Figlio Gabri! Ciao amici! Benvenuti sul nostro canale! Bravissimo! Vi ricordate quando Mamma Vita mi ha regalato la piantina? Il gattino? Sì! Eh sì! E quindi cosa facciamo? Ah eccola! Quindi oggi dobbiamo aprirla, dobbiamo vedere come funziona! Sei pronto? Sì! Vediamo, così leggiamo anche le istruzioni! Allora apriamo! Sì! Eccoci! E c'è il gattino! Facci vedere questo gattino! Che bello questo gattino! Ora prendi il vaso? Ora prendi il vasetto, però dobbiamo leggere le istruzioni! Sì! Vediamo cosa c'è scritto sulle istruzioni! Vediamo! Giunti... Giunti... Allora, cosa c'è scritto sulle istruzioni? Ecco le istruzioni! Vediamo cosa c'è scritto! Innaffiare l'intero cespo d'erba per almeno otto ore, quindi il cespo d'erba è la testa del gattino. Riempite il vaso d'acqua e metteteci sopra il cespo d'erba mantenendo il filo nell'acqua. Capito? Poi dice... Innaffiare il cespo ogni giorno è cambiare regolarmente l'acqua. L'erba inizierà a crescere entro sette giorni. Quindi noi abbiamo questo gattino. Ora cosa dobbiamo fare? Per la testa del gattino, che è questa qui, dobbiamo innaffiarla per almeno otto ore. Ci mettiamo l'acqua. Vai, vai, vai. Basta, 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 basta. Ecco! Ora deve restare qui il gattino per otto ore. Povero gattino! E quindi una volta che saranno passate le otto ore, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere il gattino. Dobbiamo togliere il gattino. Dobbiamo mettere l'acqua in questo vasetto qui, dove c'è il pesciolino, e immergere il filo, questo filo qui. Questo? Sì, poi bisognerà cambiare l'acqua tutti i giorni e i capelli del gattino inizieranno a spuntare dopo sette giorni. I capelli del gattino, quindi diventerà così. Speriamo? Sì. È vero? Sì. Eh sì, quindi amici, appena togliamo la testa del gattino dal bicchiere e la mettiamo nel vasetto, facciamo vedere ai nostri amici come si fa. Ok. Ok? Sì. Ok? Sì. Va bene amici, quindi ci aggiorniamo nel prossimo video. Nel frattempo... Nel frattempo dobbiamo aspettare otto ore. Dobbiamo aspettare otto ore. Ma cosa devono fare i nostri amici? Iscrivetevi al canale e lasciate tanti like. Bravissimo! Ciao! Iscrivetevi! Ciao amici! Ciao! Ciao a tutti! Ciao amici! Vi ricordate la piantina? Ciao! Il gattino che abbiamo innaffiato e dovevamo aspettare perché cosa doveva succedere poi in questi giorni al gattino? Doveva succedere che crescevano i capelli. Crescevano i capelli? Sì. Ma davvero? Sì. E siamo pronti a far vedere come sono cresciuti? Sì! Siete pronti amici? Sì! Sono passati sette giorni! E i capelli del gattino sono qui! Facciamo vedere! Oh! Ma ha dei capelli belli, alti, alti! Sì. Ma vediamo da vicino, da vicino. Lasciala giù che voglio vederla da vicino questa piantina. Wow! Ciao gattino! Ti trovo bene con questi capelli, ma hai preso un po' la corrente. Che dici? Ha preso la corrente il gattino? Secondo me sì. Perché vedi che hai i capelli così dritti dritti? Sì. Ma sono un po' come i tuoi? No! No! Anche Fildo Gavidi ha tagliato i capelli in questa settimana. Bellissima questa piantina! Amici, mi raccomando! Se l'acquistate anche voi, ricordatevi di inviarci le foto. Oppure di scrivere nei commenti cosa pensano di questa bellissima piantina. Sì. È vero? Sì. Mi raccomando amici, iscrivetevi al canale! E lasciate tanti like! Ciao! Ciao!